come parata epica ma ma che sta succedendo rega e benvenuti in questo video di x è quasi un nuovo video su rocket league da tempo che non lo portavo questa volta raga non siamo con dei bot ma siamo online infatti tra poco vedrete una partita con me contro dei vari nemici vero line finalmente eccoci ragazzi la partita sta per iniziare o vai itch big ma mi piace questa mappa insomma gol io what ma quando mai serio ragazzi che fortuna anzi no in realtà è stato tutto tutto è meritato tutto calcolato eh si ragazzi comunque sono un po arrugginito a rocket league da tanto che non ci gioco tutti così dicono no eh vabbè ragazzi che se mi copiano oh l'ho distrutto in volo non capito tutti i giorni ah non l'ho deviato io vero no non glielo ho toccato oh che intercettazione eh beh però dai 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 ah vai era un bel passaggio andando spostiamo sta pallata da centro che non mi sta piacendo nooo mi sa che è gol questo eh si eh si eh beh ma che è successo ma what what non ho capito ah ecco appunto è stato un nostro nostro compagno a tirarla ecco uh all'ultimo oh no sto spavendo no 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 non importa ok no sembra che mi era passato sotto madò ah perché è andato da quella parte dai 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 ah era centro ma what in che senso ma in che senso regalo comunque prima eh si si guarda che lavoro da manuale che ho fatto ah non ci credo nooo uh parata epica attenzione attenzione sono in difficoltà eh si volevi ma loro sono in due fatemi capire ah perché sono in due loro mi dispiace oh comunque mi dispiace ancora di più che noi non ci stiamo riuscendo a batterli in due dai 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 che è libera la porta oh ma che che è successo io ho fatto l'assist e che assist cioè guardate proprio più accendo un assist migliore di così penso che si muore ah che fa? ma che ma che fa? madonna cioè raga non sono anche perché ci sono andato adesso oh quasi proprio a casa uh eh ti sarebbe piaciuto io mi spavento a lasciargli la palla ai miei compagni dopo quello che è successo cioè ma dai ma seriamente? ma siamo seri? boh eh possiamo vincere contro due buisi dov'è viene ah Nooo Che è successo Uh Dai non ci credo Abbiamo perso Con due persone Ma ci posso credere Veramente Abbiamo perso Ragazzi abbiamo perso contro due Alla prossima partita Ok ragazzi ci siamo di nuovo Perfetto Vediamo è mia Degli asterischi dicono mia Eh vabbè io sono cieco però Oddio ma che cacchio era Comunque ragazzi mi sono dimenticato a dirvi che sono In Una squadra solitaria mi sembra Sì sì squadra solitaria Eh sì Con questo colore sembra un albero di Natale Non c'è bisogno che lo dite Ragazzi Devo trovare un colore che ci stava Con la bandiera italiana Nooo E comunque sono blu in questo momento Anche se non si capisce Ma che fanno i miei compagni Nooo Porco Così a caso spingono Dai però possiamo essere così disabili Cos? Ma che Ma che caspita fanno? Eh colpa mia L'ho capito Cioè non capisco Ah ok Mi sembrava che uno di loro Ha fatto la deviazione Comunque ragazzi sto in difesa Eh in difesa Gli avevo capito Ok ora posso andare all'attacco Eh però porco se non mi posiziono bene Tu vedi è arrivato un razzo in pratica Ho un rocket Uh meno male che ragazzi ho presa Uff Madonna Eh per poco Lo puoi dire forte Come parata epica Ma Ma che sta succedendo regà Oh Vabbè raga Forse non era il gol Però Sempre parata epica Vado Ma raga ma sta cosa Ma basta Raga ma sta cosa rimarrà negli annali di Di come caspita si chiamano Di rocket league Yes Ma che Cosa hai attirato Un sicuro Madonna Bellissimo Bellissimo tiro Bravo Comunque regà Quello che è appena successo In quella porta Ma che cosa in difesa Io sono all'attacco Devo attaccare Ecco Mi rubo una palla Che palle No Per quanto non l'ho presa Per quanto non l'ho presa Non ci passavo un capello Da là Non ci C'è Boh Chiaramente È in difesa Mia Ecco Peccato di questo Eh Dai 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 Che c'è entrata Ah Per poco Non lo so L'ho deviata in qualche modo Quella palla Ripigliatelo Dai No No Sono cieco Slovacco Ok Bravo Ok Ok Eh Mi serve turbo Cos Perché mi sono di ordinaria E poi mi rendo colpito pure la palla Così a caso Dai Bravo Ok 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 Che tutte le due macchine mi stavo facendo No Ah Regà Se prendiamo un po' di più velocità con la palla Ci arrivavo No Dai Regà Ma sti fail Ok Ok bravo Come parata Non è vero No Questo è gol Oh no Parate Fica Addirittura Ah Ma non è vero Ho toccato Spingi Spingi la madonna Stato Non Ok ragazzi Perdo tempo Perfetto 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 regà Vabbè regà Penso che due partite già possono bastare Se ne volete altri commentate Questo è poco ma sicuro Quindi regà Se vi è piaciuto il video Lasciate un bel mi piace Non iscrivetevi Non commentate Anche se prima ve l'ho detto Ragà Sono contraddittorio Guardate la mia macchina Quanto fa schifo Io devo cambiare sta vernice Però regà Suggeritemi voi Che colore mettere A posto del verde Per farlo abbinare Sia alla bandiera Che a qualcosa Che ho in testa E regà Che vi devo dire Non ci vediamo Al prossimo video E ciao